Buongiorno, bentrovati a questa edizione speciale del Tg7 Basilicata. Un grave incidente si è verificato questa mattina a Barraggiano Scalo in provincia di Potenza sulla strada provinciale 83 dove pare che un autobus di linea a carico di studenti si sia ribaltato nel tentativo di evitare uno scontro frontale con un auto. E ferita gravemente, attualmente si trova in proniosi riservata all'ospedale San Carlo di Potenza la persona a bordo della macchina rimasta incastrata tra le lamiere trasportate in ospedale con eli soccorso. Tanta paura tra gli studenti e pare secondo le prime ricostruzioni che nel tentativo di evitare una collisione frontale con un Alfa Romeo 147 in fase di sorpasso il pullman è uscito dalla sede stradale adagiandosi sul lato destro dopo essere andato a finire in una cunetta e oltre il guardrail come si vede dalle immagini. Tanta paura ma fortunatamente tra gli studenti nessun ferito grave. Prontamente l'autista del bus ha operato questa manovra quando si è reso conto ecco di essere in una situazione di pericolo. Ha messo in salvo tutti i passeggeri e poi si è accasciato al suolo sentendosi male. Anche lui è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Potenza. Sono in corso gli accettamenti per chiarire la dinamica del caso. Per questa edizione è tutto ci aggiorniamo nelle prossime edizioni. Grazie e arrivederci.